Nelle strade della città vecchia di Gerusalemme si cerca di rilanciare un'antica tradizione, quella del Musa Arati, il tamburino che nel mese del Ramadan annuncia l'ora dell'ultimo pasto alle tre di notte, prima dell'inizio del digiuno quotidiano. Sappiamo che in passato c'erano molti Musa Arati, poi questa figura è scomparsa per molti anni. Ora voglio riproporre questa antica tradizione palestinese, in particolare qui, nella città vecchia. In passato il Musa Arati era una figura molto popolare, capace di ricordarsi i nomi di tutti gli abitanti del quartiere. Oggi è stato rimpiazzato dalle sveglie, soprattutto quelle dei cellulari, da qui l'idea di riportare in vita la tradizione.